La pittrice Lorella Farrauto, dopo il grande successo e i notevoli consensi ricevuti per Sabbie Morfe, ancora protagonista con un libro dal Paese del Sale di Racalmuto, La Donna del Salgemma. Un titolo che spiega tutto. Sì, è particolare per il semplice fatto che dopo l'emozionante esperienza con le donne dei cristalli di sale, abbiamo un'associazione composta da quattro donne, fatta e sorta, grazie, io devo citarlo, il direttore Gigi Scibetta della nostra miniera Italcali, che ringrazio tra l'altro, dopo che mi ha presentato questo Salgemma, lì è sorta una specie di amore verso il nostro sale. Non vorrei assolutamente parlare di concorrenza con il sale rosa himalaiano, ma il fatto stesso che mi è balenata l'idea di accoglierlo in me, renderlo quasi parte della mia fisicità giornaliera. L'ho curato, l'ho studiato, ho dormito con Salgemma, l'ho flexato e l'ho reso come un pezzo artistico, ma non solo, siccome il connubio calore Salgemma, il colore cloruro di sodio, dà la possibilità di conservare questa pietra che diventa, io l'ho chiamato nel libro, l'ho chiamato l'oro cristallino, che tra l'altro non viene nemmeno menzionato su internet. Parliamoci chiaro, io ho studiato pure le varie caratteristiche di diversi sali, che provengono dalla Persia, dall'India, dall'Himalaya, eccetera, dalla Russia, dalla Prussia, non viene menzionato se non come sale o iodato o sale grosso da cucina. No, il nostro è un oro cristallino ed è per questo che mi sono presa la licenza di scrivere un libro, un libro particolare dove riporto le mie emozioni, il fatto di, da donna tra l'altro, forse unica perché ho fatto delle ricerche, lavorare in questo modo, come l'ho inteso io, il sale, che non chiamo più sale perché mi sembra povero come termine, il sal gemma che è il loro cristallino. Ho avuto modo praticamente di apprezzarne queste caratteristiche e ve lo presenterò, grazie anche a questo libro, dopo aver fatto questi studi. Appurato che non solo fa bene a livello dell'apparato respiratorio, perché mi sono ritrovata ad espettorare a sufficienza, quindi una specie di medicina naturale per il torace a livello respiratorio. Per la prima volta, malgrado gli abbia fatto in passato degli interventi a livello dei segni paranasali, mi sono ritrovata a sentire nuovamente gli odori. Quindi per me questo connubio, calore, ciò che mi dà il contatto col calore, lampade di sale, che poi vi deluciderò magari un attimino, che costruisco io assieme ai cablaggi elettrici, non solo che mi offre il negozio del materiale elettrico, ma anche con le radici. Cioè dal sottosuolo ho preso il sal gemma, dal suolo mi sono permessa di raccogliere, grazie anche a Maria Mulè, grazie a Rosetta Rizzo, grazie a Sandra Mendolia, che sono le donne di cristalli di sale, ci siamo permesse di raccogliere quello che la madre natura ci offre, delle radici, non solo delle nostre vigne, ma anche degli olivi, degli alberi di mandorlo. li ho puliti, li ho lavati, li ho anche cerati e preparati per far sì che la lampada stessa, quindi questo blocco artistico, perché scusate un attimo, mi muovo, diventa un pezzo unico, lavorandolo diventa una lampada di sale, con tutte le proprietà, ripeto, che non sono solo delle proprietà, diciamo, che fino ad ora hanno conosciuto nelle tavole come da cucina, ma le proprietà del sale nostro, della miniera di Racalmuto, è fondamentale scoprire. E voi troverete anche delle piccole cose, ripeto, particolari in questo libro, perché non sarà un libro normale. Il lettore me lo porterò in viaggio, tra le poesie, tra tutto quello che la mia anima poi si è sentita di trascrivere. Lorella Farrauto, con il suo overtour esposto al Teatro Regina Margherita lo scorso anno, Olio sul legno, telato e lavorato con gesso e sabbia, un'opera anche donata al Comune di Racalmuto. Quali altre prospettive per questo 2016? Sì, oltre praticamente a tutto quello che è progettistica, dal punto di vista oramai sono all'interno e da presidente dell'Associazione Cristalli di Sale, ho presentato diversi progetti, tra i quali il rock painting, che è la pittura su pietra, che farò fare anche ai ragazzi, eccetera. Ho intenzione di presentare un altro anno, non prima perché, ripeto, troppe cose, quindi un'altra mostra, un po' particolare questa volta, dedicata al mare, perché io adoro il mare, sale mare, tra l'altro si può trovare anche la connessione tra le dune del sottosuolo, riemergo e mi godo il mare, la bellezza del mare. Quindi spero di stupirvi, ecco.